Una giunta esterna al Consiglio Comunale di Lauria. E' questo il binario che vuol seguire il sindaco Gaetano Mitidieri per condurre la sua amministrazione oltre la crisi politica. In sostanza stiamo parlando di quella che per ora è la somma degli incontri e delle consultazioni avviate dal capo dell'esecutivo negli ultimi giorni. Summit tra i segretari dei partiti del PD, PSI, Popolari Uniti, Udc e lo stesso primo cittadino, insieme per ricompattare centro-sinistra per Lauria. Una crisi che dura da troppo tempo, con delle verifiche di maggioranza e altri passaggi, che però non hanno sortito gli effetti desiderati. Arriviamo ai giorni nostri, si va in Consiglio Comunale per eleggere il nuovo presidente dell'Assise e qui viene il bello. Il PSI prende la parola e informa i colleghi della coalizione di voler uscire fuori dalla giunta, spiegando anche il perché. Dunque la presa di coscienza di mitidieri, la crisi è profonda, apro le consultazioni. Giunta di missionaria, esecutivo azzerato. Ieri ho convocato i segretari, ha detto il sindaco di Lauria. Ho illustrato loro la mia idea, ci ha riferito, chiedendo di fornire una rosa di nomi per definire un nuovo esecutivo esterno al civico consesso. È la strada più giusta, opportuna per portare a termine gli obiettivi amministrativi, ha chiarito con molta convinzione il sindaco. Una via, ha poi detto, che potrebbe fornire anche più entusiasmo e maggiore impegno al lavoro quotidiano. Quanto alla possibile apertura ad altre forze politiche di centro-sinistra presenti in Consiglio Comunale, il sindaco è stato molto chiaro. Una possibilità questa che coincide tra l'altro con realtà Italia dell'opposizione. In questa fase, ha spiegato mitidieri, ritengo voler recuperare il quadro compattando la mia maggioranza. Qualora non ci riuscissi con questa opzione, infine detto, sarò io stesso a prendere le decisioni. Luneri dunque si attendono risposte.